La nostra paura è che ci avevamo se è verificata. C'è una foto in particolar modo che descriveva l'ambiente intorno con la pioggia. Nella foto si percepisce che c'è pioggia, ma è bellissima quella foto. Bastava veramente poco, poteva essere magari una domanda e focalizzavamo l'attenzione sul goderci quel momento. L'abbiamo rivisto poi nelle foto, perché erano spontanee, perché quando io riguardo quelle foto penso, ti ricordi quando abbiamo detto quella cosa e ci siamo messi a ridere? E allora in quel caso Girolamo ha scattato la foto, ma erano delle conversazioni quelle che facevamo tra me e lui. Soprattutto ho fatto di momenti intimi, che abbiamo vissuto come intimi, ma che c'avevi intorno un fotografo con degli operatori di cui spero non ti ricordavi. Grazie a tutti.